Lo scorso 14 giugno a Milano la fira con il progetto La Finanziaria che pensa ecologicamente ha ricevuto l'importantissimo premio speciale Impatti Diretti della quinta edizione del Green Globe Banking Award, il premio che sceglie le migliori pratiche messe in campo da banche ed istituti finanziari nella realizzazione di prodotti, attività e investimenti eco-efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale. Il premio questa mattina è arrivato a Pescara esposto con orgoglio dal presidente della finanziaria regionale Rocco Micucci, fiero che la fira sia tornata alla ribalta nazionale ed internazionale per la sua azione imprenditoriale e non per le vicende legate alla cronaca che ne aveva nominato la credibilità. Intanto diciamo che torna l'attenzione in senso positivo rispetto al passato e questo è già un risultato. Poi sicuramente fa diventare verde non solo la nostra finanziaria ma in un'intera regione perché questo premio importante che premia le migliori pratiche delle banche nazionali è stato riservato a un'intera regione. Noi abbiamo pensato di canalizzare un'inserie di finanziamenti tutti dedicati alla Green Economy perché questi oggi rappresentano forse l'unica possibilità di imprenditoria efficiente e anche redditizia in quanto in questo momento la Green Economy è anticiclica, lo dimostrano i dati e ci dicono che è l'unica fascia di mercato in cui si può investire con una certa tranquillità. Forza strategica, reale efficacia, profittabilità e capacità comunicativa sono stati i quattro criteri di valutazione adottati dal comitato scientifico che racchiude non solo addette ai lavori ma anche personalità del mondo accademico e imprenditoriale e che per la prima volta ha premiato una finanziaria regionale mista pubblico-privato. Devo dire che è un fatto eccezionale, nel passato sono state premiate solo banche diciamo di tipo tradizionale, banche grandi e banche piccole ma è la prima volta che il comitato scientifico assegna un premio a una finanziaria regionale ma direi con pieno merito.